La posi d'opera è il problema per tutti i seramentisti, noi abbiamo grande cura specialmente in questo momento in cui sono richieste prestazioni, ci sono responsabilità, ancora una volta dobbiamo fare il massimo per essere onesti nel rapporto e quindi dobbiamo formare, informare e collaborare con tutti in modo tale da tirar fuori questo problema che per troppo tempo è rimasto in sordina e noi sappiamo quanti seramenti sono stati installati senza una vera cura, non dando i giusti e corretti risultati. Noi proponiamo di fare una preverifica perché il problema è il giunto di posa, quindi tra muro e seramento, quindi noi siamo in grado di fare in modo analitico una reportistica già ante, quindi praticamente prima di tutto il lavoro, quindi dare un risultato atteso al cliente e poi di fare esattamente quello che abbiamo progettato, quindi questo è per noi il giusto approccio. Noi siamo in grado di fornire al nostro cliente proprieventivo lo studio del giunto di posa, il cliente ci dà quello, facciamo la stratigrafia del muro, noi installiamo teoricamente un software il nostro serramento, ci mettiamo i materiali che metteremo in opera e quindi riusciamo a determinare il risultato a livello termico che avrà il serramento. Lo possiamo in pratica certificare con decolumentazione che è sotto la nostra responsabilità.